Abbiamo con il Presidente della provincia di Avellino, Gambacorta, attenzionato al Ministro la situazione della strada delle Puglie, l'SS90, che collega la Campania con la Puglia e le province di Foggia di Avellino. Nell'immediato ci saranno degli interventi per circa 8 milioni di euro che sono di messa in sicurezza della strada e quindi interventi di manutenzione straordinaria di somma urgenza. Dopodiché abbiamo manifestato la necessità che quella strada venga attenzionata e interessata da un intervento di manutenzione più consistente che non si fa da troppo tempo. Ricordiamo che anche la strada che è stata interessata nel 2010 dalla frana di Montaguto, quindi anche di quello abbiamo parlato. Una frana, dicono gli studi geologici, non si ferma. Anche un millimetro al mese può scendere. Se quel fenomeno dovresse ripresentarsi, i disagi che a suo tempo si ebbero furono notevoli. Ricorderete che i due territori erano collegati attraverso delle navette, atteso che sia i collegamenti ferroviari che quelli stradali erano totalmente interrotti. Da questo punto di vista abbiamo ottenuto dal Ministro l'impegno a sentire subito la protezione civile per acquisire questi studi e per vedere come scongiurare questo pericolo che potrebbe essere lontano ma potrebbe essere anche, non dico vicino, ma di medio termine. Poi perché la natura non detta i tempi, non li fa conoscere prima. Però noi dobbiamo preoccuparci che la strada venga messa in sicurezza e quel fenomeno franoso non abbia a ripresentarsi. Dopodiché ci siamo lasciati con l'impegno sia per la frana di Montaguto sia per la manutenzione stradale della SS80 più complessiva che sarà di un 40 milioni di euro che dovrà entrare nella prossima programmazione. Circa 22 milioni di euro per il tratto avellinese, quello campano, la rimanenza invece per il tratto della provincia di Foggia. Naturalmente su questa programmazione tempi certi non ce ne sono stati dati. Invece dei tempi più dettagliati, più certi ci sono stati dati per la posa in opera di questi interventi di somma urgenza che dovrebbero intervenire entro il periodo estivo. Cioè il periodo, il grano, Pomodoro, quella è la strada del grano che collega Foggia ed Avellino e quindi interessato a un traffico veicolare più consistente. Questi interventi ci saranno entro la stagione estiva.